Al Civitelli l'Olimpia agnonese mette in cassa un punto contro il Pinete, un avvio piuttosto noioso che vede le due squadre abbottonate ma con i padroni di casa proiettati verso un gioco più aggressivo. Registriamo le prime azioni dal ventesimo minuto di gioco e sono tutte di marca Granata. Al ventesimo appunto Litterio in ottima posizione tenta il colpaccio ma la difesa avversaria devia in angolo. E proprio su quel calcio piazzato l'Agnone ci riprova, stavolta è Madì che stacca di testa ma Mazzucchetti lo ferma. Al ventinovesimo ancora occasionissima per i ragazzi di Mister Di Meo con Margarita che ci prova a qualche metro dal limite dell'area ma la palla si stampa sulla traversa. Un minuto dopo Santoro ci prova col destro ma non riesce a girarla e la palla si spegne sul fondo. Al trentasettesimo la svolta Napolano sguscia tra i difensori Granata e a tu per tu con Faiella insacca la rete dell'1-0. Sul vantaggio ospite si vanno gli spogliatoi. Con le immagini di Giancarlo Bustelli eccoci nella ripresa. Neanche un giro di lancette Lagnone entrato in campo con la voglia di riscatto sfiora il pareggio con Di Lollo ma Mazzucchetti salva tutto. Al sedicesimo Barbosa protesta per un atterraggio in area da parte di Pepe ma il direttore Perri della sezione di Roma lascia proseguire il gioco regolarmente. Al ventottesimo è ancora Lagnone all'attacco ma il tiro centrale di Ferraro dalla distanza viene intercettato dal numero uno ospite con relativa facilità. Al trentaquattresimo il Pineto rimane in dieci per l'espulsione di Mariani che atterra Ferraro e in virtù del doppio giallo viene mandato al sitempo sotto la doccia. Al trentacinquesimo dal cuore dell'area a sorpresa Madì su sponda di Barbosa gonfia la rete abruzzese per l'1-1 finale. Due minuti dopo Ferraro sfiora il raddoppio andando fuori di pochissimo. Finisce con un pareggio che ai padroni di casa sta veramente stretto per via delle tante occasioni create. Il Pineto se ne torna a casa con il nono risultato utile consecutivo e per il momento sembra questo Basti.